Riparte da qui, da Craiova, l'avventura europea del nuovo Milan cinese. La squadra di Vincenzo Montella partirà dalla Malpenza alle ore 17.10, atterrerà proprio qui in Romania e poi nella serata Vincenzo Montella terrà la sua conferenza stampa pre-partita proprio qui all'hotel Ramada alle mie spalle. Nella giornata di domani allenamento di rifinitura per la squadra rossonera non qui a Craiova ma bensì a Drobeta Severin dove poi la sera alle ore 21 locale, alle ore 20 italiane, la squadra di Vincenzo Montella affronterà invece la formazione di Davis Mangia, il Craiova che ha già iniziato il campionato ed è più avanti della preparazione. C'è grande entusiasmo attorno al Milan, abbiamo visto che per la gara di ritorno sono stati già venduti più di 35.000 biglietti ma saranno anche presenti qui in Romania, una folta rappresentanza di tifosi rossoneri proprio per sostenere il Milan.